Basta, basta Fiverr, basta Scam. Io ragazzi non ce la faccio più. Siamo solamente a due video da che è ritornata la serie e io onestamente non ce la faccio già più. Lasciate un like perché se non supportate con un like io getto la spugna. La vedete questa? La getto. Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video di Fiverr, la serie dove pago tre pro builder tra moltissime virgolette per costruire la stessa cosa e vedere chi ha fatto la build migliore, se quella che costa di più, quella di meno e se i soldi corrispondono alla qualità. Spoiler, non è mai stato così dall'inizio della serie. Cioè giuro, guardatevi tutti gli episodi che trovate nella playlist, non è mai stato così. Qua sotto di me vedete gli ordini compresi gli ultimi due che ho fatto per questo video. Ed ecco qui le tre build, la prigione da 5 euro, da 10 euro e da 0 euro. Che poi è rotondo sempre in difetto, in realtà spendo più di 5 e 10. La prigione è stato il tema scelto da voi, quindi anche in questa puntata se volete nei commenti suggeritemi il tema per la prossima puntata. Avete scelto la prigione e quindi purtroppo ho chiesto di fare una prigione. Prima di iniziare, lasciate un like per supportare questa serie e il mio esborso inutile e motivato di soldi continuo. E ragazzi, andiamo a vedere la build da 5 euro che come vedete dall'anteprima già puzza di qualcosa di sbagliato, perché c'è un mondo super flat. Andiamo. Ed eccoci qui. Intanto è notte, quindi già cominciamo proprio malissimo. Togliamo la notte e facciamo un bel time set. Zero. Eccoci qua. Direte, wow, la build da 5 euro è immensa. Ma guarda qui che roba. Qua ci sono dei campi di grano. Wow. Qua c'è un Luna Park. Wow, che figo. E qua c'è quello che sembra essere un castello in costruzione. Bene, se siete confusi ragazzi, è giusto che lo siate. Questa non è la build da 5 euro. Aspettate, aspettate, dovete ascoltare tutto perché la storia è fantastica. La build da 5 euro non l'ho ricevuta. Il builder che è online sul sito, da cui avevo anche ordinato in passato, e da cui tu puoi fare ordine e pagare soldi, mi sa che non è più disponibile. Quindi ho fatto l'ordine e il tipo dopo 3 giorni, 4 giorni non mi ha risposto, tant'è che ho dovuto annullare l'ordine e farmi rimborsare. Quindi la prima build non esiste, dato che non mi ha manco risposto il builder. Siamo benissimo. E quindi dove siamo? Siamo nella build del secondo builder. E mentre ci facciamo un giro, vi spiego un po' cosa è successo. Per non farci mancare nulla, contatto il builder da 10 euro e gli dico Ciao, mi servirebbe che tu costruisca una prigione in Minecraft Java 1.19, bla bla bla. Per farla breve gli chiedo, non darmi una schematica, vorrei un mondo scaricabile. La risposta del builder, secondo voi, quale è stata? Scrivetelo nei commenti, vi lascio qualche secondo per pensarci. Dai ragazzi, perché questa è la nuova moda, è la nuova tendenza di builder di Fiverr. Quale sarà mai stata la risposta? Eh, ma dovevi prima scrivermi via messaggio privato, così che concordavamo tutto per i dettagli e poi facevi l'ordine, solo poi facevi l'ordine. Se hai una pagina dove io posso acquistare la build, c'è scritto che costruisci qualsiasi cosa, io acquisto, ti dico cosa costruirmi, perché ti devo contattare prima privatamente? Vuoi aggirare il regolamento di Fiverr in qualche modo, furbacchione? Qual è lo scopo di contattarti prima privatamente? Se vedi un prodotto e sulla pagina quel prodotto è disponibile. Dopo questa lamentela iniziale, che mi ha proprio acceso la voglia di collaborare con questo builder, il builder in questione fa le sue cose, tagliamo corto, mi manda la consegna, e secondo voi, che cose mi consegna? Ovviamente mi manda una schematica in download. Non darmi le schematiche! Dammi il download del mondo, no, c'era proprio scritto, no schematiche. Al che io, irritato a manetta, scarico questa schematica maledetta che manco si apre, non si apre nemmeno, non si sa come aprirla, non funziona con Word Edit. Al che gli dico, guarda, io ti ho detto, non voglio una schematica, dammi il download del mondo. Dopo un po' di tempo, ed era già in ritardo sulla consegna di due giorni, mi arriva questa mappa, e questa mappa, ragazzi, non è una prigione. Che cazzarola è sta roba? Boh, una mappa totalmente a caso. Quindi io vado nella pagina del builder, faccio una richiesta per annullare l'ordine, scrivendo per due volte, mi è stato consegnato qualcosa che non ho chiesto, non ascoltando le mie richieste. Voglio essere rimborsato. Ed è il momento di entrare nella prigione da 10 euro, perché la prigione da 10 euro esiste nonostante tutto, e adesso capirete il perché. E ovviamente è notte, vabbè, che palle. Alla terza volta, il builder mi risponde nuovamente, scusandosi, perché a detta sua, mi ha inviato il mondo sbagliato. Ricordate le build che avete visto all'inizio? Questo builder è stato così distratto nel non cagare di striscio le mie richieste e lamentarsi pure, che mi ha mandato, probabilmente, un mondo in creativa, dove stava lavorando alle build di altri. Quindi mi ha mandato le build di altri ordini. Io ho ricevuto delle schematiche che hanno pagato altri, ma come cazziamo? A quel punto, pur di non perdere il cliente, con un ritardo accumulato eccessivo, finalmente mi manda la prigione, e dopo tutto questo servizio terribile, sono esausto, tieniti i tuoi soldi, chiudiamola qui e basta. Quindi andiamo a vedere la prigione da 10 euro. Mamma mia, ragazzi, io... Non avete idea di quanto tempo ho perso per avere sta build, per fare due minuti di clip in un video, io non ne posso più di sta storia. Cioè, è davvero terribile, è un'esperienza terribile. La prigione si presenta anche bene, è una prigione, non è male come build. Cioè, è fatta bene, è una prigione, è quello che mi aspettavo. Perché c'è sto blocco in mezzo al coglione? Che sono gli enderman. All'interno della prigione ha questo campo, quindi abbiamo tipo il filo spinato, le torrette di guardia, la porta spalancata, perché giustamente che è una prigione, esci pure quando vuoi, non è nostra intenzione tenervi confinati qui dentro. E qui abbiamo un campetto da basket, tutto un po' mal curato, che dà proprio l'idea di prigione. Qui ci sono degli spalti, delle piccole aree dove fare esercizio, con le teste di zombie. Entrando nella prigione, che per qualche motivo è la P5, non si sa dove siano le altre quattro, abbiamo questa situazione. Quindi la struttura è abbastanza semplice, però fa il suo. Abbiamo le celle, che non sono apribili, con vari letti. Qua manca un blocco, perché probabilmente è fuggito qualcuno, se no non me lo spiego. Qua dentro, dove le guardie fanno la guardia, non c'è neanche una porta, mi sembra tutto fatto un po' di fretta, ma spero almeno non sia una schematica. Lavandino, water abbastanza pigro, e asciugamano abbastanza pulito. Le celle ci sono, e questa è la nostra prigione alle 10. È carina, però mi sembra fatta un po' di fretta, sotto alcuni punti di vista. E fatto questo enorme racconto della mia epopea, andiamo a vedere la build a 0 euro, alla quale, ormai lo sapete, riservo tutte le mie speranze, anche se c'è una mogus, così in copertina, ragazzi, vi prego, almeno voi. Prima di entrare, vi ricordo il like, e vi ricordo che la mappa da 0 euro, sarà scaricabile anche da voi, a partire dalla live di questa sera. Mi trovate sul sito Viola, alle 20.30, link in descrizione, live.remblaze.it, da questa sera in poi, punto esclamativo mappa, sarà il comando che nella chat, del sito delle live, vi darà il download di questa mappa, se la volete, quindi poi scaricatevela. Ma prima andiamo a vedere la prigione, da 0 euro. Oh, non vedo l'ora, eccoci qui. Abbiamo un libro, con i crediti, grandi ragazzi, il builder Cib, i suoi aiutanti, la mogus, e un pulsante. Ok. Bro, dimmi che non mi hai trollato, che la build esiste. Ok, la build esiste, per fortuna. Ragazzi, io non ho più fiducia nel genere umano. Ehi, ciao Cib, vediamo cosa ha da dirci. Ciao Eren, ho rubato nel vanilla, mi sono ritrovato qua, è tutta colpa di raggi, spero almeno, la build le piace. La ringrazio, quindi ha fatto una roleplayata, citando un moderatore del mio server, dicendo che ha rubato nel server, quindi è stato preso e è mandato in prigione. Stasera, se passate in live, ricordatemi di farvi vedere le prigioni del server, che sono molto fighe, già che siamo in tema. Addirittura la palla al piede gigantesca. Eccoci qui, vediamo un po' questa prigione. Oh, figa questa, bellissima. È tipo piattaforma petrolifera, però adattata a prigione, cioè da qui non ne vade più nessuno, ma che figata. Allora, anche qui ci serve un time set, perché comunque ragazzi, io vorrei fare il video di giorno e attiviamo le shaders per vedere tutto al massimo dello splendore. Guardate che figata. Partiamo dalla base, perché hanno fatto un po' di corallini morti. Vabbè, giustamente, povera barriera corallina, ci hanno buildato sopra tutto questo affare. Bello però il fondale, bello dettagliato. I piloni della struttura sono belli dettagliati, pieni di coralli, alghe e quant'altro, e poi vanno a fare questa transizione dalla parte che sembra bagnata al legno rosso e il classico colore giallo e nero che fa sembrare una... qualcosa che possa muoversi, quindi un avviso di qualcosa di pericoloso. Ha davvero l'aspetto di un carcere. Il filo spinato, con questi dettagli, spacca. Peccato che le lightning rod non siano del colore del ferro. Servirebbe un corrispettivo da mettere, effettivamente. Qui abbiamo un elicottero, che magari potrebbe essere un'ottima via di fuga per un eventuale prigioniero molto esperto. Vediamo un po' gli edifici. Questo primo edificio è una torre, ci permette di salire sopra. Buonasera, lei cosa sta facendo? che sta osservando dall'alto. Questa è la torretta di guardia, praticamente. E sta osservando che vada tutto bene nel carcere. Non capisco bene le dinamiche di questo altro elicottero. Che cosa rappresenta? Questo sembra tipo un raggio sparato verso Damix che sta tentando la fuga, immagino. Quindi sì, potrebbero essere i proiettili infuocati, caldi, e gli stanno sparando perché cerca di scappare. Così come lui si sta lanciando in mare, ma dalla nave, pure da qui, gli stanno sparando addosso. Niente, non c'è modo di scappare. È bello il motoscafo, peraltro. Tornando a noi, questi due edifici più grandi sono la parte principale della prigione, immagino. Quindi se entriamo, partiamo da qui magari. Abbiamo una cella dove abbiamo il primo prigioniero. Cos'è quella roba bianca lì sotto? Capisco la solitudine, la noia, però ha un po' di decoro su via. La branda così è bellissima. È davvero bellissima. Per quanto sia estremamente semplice, dà proprio l'idea di branda scomoda. Qua vediamo anche dei blocchi 1-19, grazie al cielo. Vediamo un po' le altre celle. Anche queste celle sono abbastanza vissute, diciamo così. È una prigione decisamente particolare, a partire dal fatto che sta su una struttura del genere in mezzo al mare e queste celle disposte su più piani, fuori ci sono delle sedie, come se tu potessi sederti, se hai una guardia ti sedi e guardi i malcapitati nel cielo e le dici loser. Qui abbiamo dei condotti che connettono le due strutture molto belli. Torniamo dentro, guardiamo l'altro edificio mentre io lancio a questo punto un appello ai giocatori del mio server di Minecraft. Quale potete entrare anche voi se volete diventare parte di questa community di Pazzi Builder semplicemente facendo la sub al mio canale del sito Viola che trovate in descrizione anche gratis col servizio di Prime Gaming. Una volta fatta la sub potete entrare nel server con il comando punto esclamativo server e potete entrare da qualsiasi dispositivo Bedrock Edition telefono console java quello che volete sarebbe bellissimo vedere nel server una città carceraria ispirata a una build del genere dove i propri cittadini sono nelle celle e la città è un enorme carcere secondo me sarebbe molto figo buonasera signor Jank con un hand crystal buttato lì sotto che potrebbe portarlo alla fuga se solo avesse un ossidiano su cui piazzarlo questo edificio è più o meno speculare all'altro quindi lo stile è quello mi piace l'uso che hanno fatto comunque degli item frame invisibili per mettere disordine in giro la differenza è che questo edificio è un piano più basso in modo da rendere un po' più diversa la struttura come sempre direi che la build migliore è stata fatta dal sub la build da 0 euro è la più bella e infatti ve la lascio in download se volete come detto prima e per fortuna che ci sono queste build finali ad arricchire il video perché altrimenti avete visto oggi è un disastro stato fare questo video mi raccomando ragazzi supportate scrivetemi nei commenti il prossimo tema da fare e settimana prossima vediamo cosa combinare perché io già non ne posso più è davvero stressante ma per voi se supportate continuerò a portare la serie di five quindi mi raccomando noi ci vediamo stasera in live e domani con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti